ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi approfittiamo per sbustare card mba cambiamo un po rispetto al solito c'è l'inizio della nuova regular season e quindi ho pensato di dedicare l'apertura di un blasterino delle doras che contiene 90 card questa la descrizione sopra ci sono delle parallele particolari questo se volete salvare poi mettere in pausa e poi leggerlo con calma ci sono due card non base di media a pacchetto sono sei pacchettini è molto importante il 23 24 comandata perché c'è la rookie di Wenbanyama già le carte base sono comunque apprezzate di Wenbanyama un autografo sarebbe niente quanto di meglio si può chiedere in questo momento ovviamente blasterino l'autografo si può trovare ma è molto raro non si sa mai io sono conosciuto per la proverbiale sfortuna nell'apertura delle cose ma tant'è sta per iniziare una stagione in cui boston arriva da campione new york si è rifatto il look a ovest c'è molta incertezza perché non si sa bene ancora cosa succederà tranne che i clippers tancheranno male di sto passo perché con leonard fuori a tempo indeterminato va bene sei pacchettini molto carini devo dire molto gradevoli esteticamente e niente andiamo a aprire ho lasciato un po' di spazio per mettere negli stendini le card più carine che troveremo non ho idea di questo set non ho guardato sbusti non so assolutamente nulla non so cosa troveremo però però ci sta uno sbusto nba almeno ogni tanto seguo molto la nba faccio anche il fantabasket il dunker stanche cioè però aprire sbustare card è sempre è sempre bello soprattutto se si inizia con gli uta jet che è la squadra per cui tifo ora intanto così esteticamente giudizio estetico sulla card bella la luce qui in rilievo l'effetto grafico qui in rilievo carino l'altra carta invece c'è il resto della carta è plastificata ma molto normale c'è soltanto qui in basso in rilievo colori tutto sommato buoni mi piace un po' lo scontornamento il bianco che c'è attorno al giocatore ma mantenendo lo sfondo ci sta capisco già meno questi ghirigori qui però bello tutto sommato e sì anche il retro bello mi piaceva molto nelle upper deck degli anni 90 quando c'era tutto il boxettino in cui si potevano guardare le statistiche e all'epoca che non c'era internet era veramente una mana dal cielo le guardavo tutte molto molto curiosamente diciamo qui ce ne sono meno ma tant'è adesso con internet c'è nemmeno bisogno quindi colin saxton che diciamo degli utah jazz era quello che meno cercavo comunque andiamo avanti jimmy butler un buon nome chissà la stagione che farà quest'anno con i miami se rimarrà miami tutto l'anno jack laravia qui non troppo bene come pescata terence mann anche qui si può far meglio oh ecco qua qua ci siamo sono contento il mio lauri markanen un giocatore troppo forte per un aiuta in forte tanking ma è uno dei pochi forti che ha rinnovato il contratto con juta quindi bene 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 sono contento di trovare questa carta che finisce qui di diritto ricordo che questo è un box da 30 40 dollari l'ho pagato 30 dollari scusate euro pagato 30 euro più ovviamente spese di spedizione comunque cifra contenuta tutto quello che viene è buono diciamo aj griffin non è qualcosa di buono ma c'è anche di peggio ecco non volevo chiamarmela ma però questo è rookie però questo è rookie oh un bel rookie bene bene cos'è è girata kate cunningham kate cunningham girata ha messo le due particolari nel mezzo vabbè primo pacchetto ormai ci hanno fregato guardiamo subito uh bella certo kate cunningham può essere un buon prospetto come no non è un rookie quindi purtroppo però la laser parallela credo che sia una una chicca del blasterino l'immagine è brutta forte piegato ingobbito così non si capisce sembra alto 30 centimetri però buono insomma una laser all'effetto uno degli effetti che mi piace di più di panini bella 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 quindi questa va di diritto si guadagna un posto sul secondo stendino poi abbiamo l'altra non base del pacchetto che è questa complete players che è vinturante non vedo il nome ma l'ho riconosciuto dall'immagine questa è facile sì una carta molto base ecco niente di che kd non è nemmeno uno dei miei preferiti quindi l'ho preso nella lega del fantabasket a 8 perché comunque è riuscito un buon prezzo ma non è certo uno dei miei favoriti nonostante riconosco che il suo lo faccia sempre dillon brooks chris middleton ormai non so se si riprende quest'anno ma non molto bene evan mobley invece un prospetto molto interessante fred van vliet nikola jovic e per finire uh josh giddy non aggiornato perché ancora con la maglia okloma invece con la maglia di chicago beh allora le immagini alcune sono veramente brutte qui c'ha i capelli vabbè comunque c'è di peggio di giddy però va detto che in questo pacchetto non è neanche uscito niente di buonissimo via perché quando comunque ti esce uno speciale di detroit piston mmm non butta benissimo però c'è markanen che mi fa felice per cui non mi posso nemmeno lamentare andiamo con l'apertura del secondo pacchettozzo ora non so cosa pensiate voi chi vedete favoriti a ovest ma mi sembra evidente che a est ci sia una gerarchia ben definita con i boston e new york soprattutto e poi a seguire ci sono mi walkie e fila defia che però mi walkie non ha convinto l'anno scorso e non vedo come possa convincere quest'anno fila devono arrivare tutti sani e un'impresa che proprio parlando di new york michael brigis che non è più i nets ma i new york nicks e può essere l'aggiunta che mancava quindi comunque buona card questa tyler irro stiamo trovando tutto a miami praticamente abbiamo quasi tutto il quintetto base manca giusto bama de baio momenti danny avdia che a portland può spero c'è da washington a portland non è che sia proprio sto gran miglioramento però chissà che magari cambiare aria secondo me lui non è male a washington è stato un po' penalizzato in generale dalla situazione però non è male desmond bain chi segue campo aperto è il cattivo di batman ma troppo complessa da spiegare seguite campo aperto il quasi gaming e capirete okongu tre i marfi che quest'anno new orleans è una bella una bella incognita stiamo arrivando velocemente alla carta centrale questa volta la teniamo per ultima credo che no ok abbiamo ratted rookie di che jonte george io sono felicissimo sono davvero felice da tifoso jazz di non potevo abbiamo trovato marcanen e che jonte george io sono felice così ora però mi sto accorgendo ah sì scusate no pensavo ratted rookie ma è rookie dell'anno scorso non è rookie di cui dai sì rookie dell'anno scorso anche perché sennò ci sarebbe guambagnama nella lista niente problemi miei allora bruce brown donovan mitcher finalmente un pezzo da 90 ex jazz sempre rotto quando conta ma comunque forte jason tatum qui invece siamo un pezzo da 90 che appena vinto l'anello spero che quest'anno si faccia valere un po' di più cut cut parlavamo di new york è l'altro tassello arrivato da minnesota jordan clarkson io da anni che mi fa impazzire aiuta non sarà l'uomo che ci fa vincere un titolo non lo è di certo però c'è sempre da divertirsi con lui e mi serve un altro stendino perché io qua di fianco a lauri devo mettere anche jordan clarkson con 30 squadre era difficile trovare tutti gli uta jazz anche se abbiamo trovato anche miami andrew wiggins ecco io preferivo kuminga di golden state anche al fantabasket ho puntato forte su kuminga vedremo cosa farà siamo arrivati alle due speciali di cui una è girata una no quindi guardiamo prima quella che non è girata uuuuh che iont george franchise feature wow feature no non è un ah perché davanti non si vede la t ok sì però rookie card quindi questa ha maggior ragione lo stendino abbiamo trovato ben due rookie card di che iont e george io felicione e l'ultima una laser ancora però saddick bay saddick bay che no 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 non abbiamo fortuna con le laser non abbiamo fortuna con le laser no 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 penso che ce ne fossero due di laser andiamo a vedere se c'è scritto no in in realtà non non c'è un numero quindi ma chissà se ce ne possono trovare altro o meno io sono già felice di questo box perché ho trovato una stesa di jazz e quindi mi personalmente sono a posto e parlando di jazz quest'anno parlavo prima tanking selvaggio che comunque i jazz fanno sempre fatica perché non sono una squadra così male non sono una squadra senza capo né coda come altre franchigie poi siamo comunque sfortunati uguali sempre in lottery quindi dubito che prenderemo la 1 che sarà cooper flag ma è difficile è difficile perché ogni volta che vedo vincere sono contento però poi dopo ci allontaniamo da una buona pescata non lo so comunque sicuramente bassi fondi perché a ovest sono più o meno tutte forti per cui austin reeves bene bene buon inizio buon inizio giocatori che mi piace derrick rose che si è appena ritirato peccato per quell'infortunio ma grossa carriera keegan murray franz wagner beh tutti i nomi medio alti qui devin vassel che quest'anno parte rotto ma l'anno scorso non era male perché mi ha fatto fare tanti punti al dunk harrison barn adesso però come prima non vorrei teniamoci le ultime due per il finale e mettiamo davanti le altre ok jamie jacks jr che è retted rookie bene 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 ottimo perché contatto che ci sono una sessantina di rookie nuovi beccare adesso manca uem bagnama che ovviamente serve il numero uno però beccarne due buoni non male alex caruso ottimo secondo me ok si a ovest potrebbe essere la favorita potrebbe si è fatta proprio una bella squadra adesso si è rotto artestine ma torna presto caruso un'ottima giunta francamente vedo messo pezzo denver che no denver non la vedo bene a proposito di denver un ghiocchi ci sarebbe gradito vediamo se chiamare i giocatori poi escono dyson daniels ivy kazubak il pokeball cameron johnson ne siamo arrivati alle ultime due no ne manca uno oh c'è tolmgren c'è tolmgren parlavamo di ok si buono c'è tolmgren e poi jonas valensunas ecco meno bene un'altra laser no camreddish ma no ma uno spreco di laser ma perché le parallele eravamo stati tanto fortunati con i rookie vabbè e invece vediamo l'altra che è great expectation jet tower magic rookie card francamente non lo conosco ne ho sentito parare poco quindi boh vediamo siamo al giro di buona aperti tre pacchettini e dopo tre pacchettini posso dire che a parte le laser che ne esce uno ogni pacchetto quindi se abbiamo ancora tre colpi spero ci sia qualcosa di buono comunque finora sono contento di questo blaster non ho aspettative lo sto aprendo per divertirmi e magari se c'era qualche giocatore buono una rookie di wambanyama non sarebbe sgradita ma insomma prendiamo quello che viene domantas sabonis ecco i kings io non so cosa aspettarmi dei kings quest'anno non so veramente cosa aspettarmi chissà poi io sia chiaro tifo jazz ma in realtà siccome i jazz non hanno vinto con Stockton e Malone quando guardavo negli anni 90 figuriamoci se vinceranno mai oggi per cui in realtà io tifo un po' per cioè chi merita di più quindi sono abbastanza non ci sono squadre che veramente detesto in questo momento domantas sabonis buono Darius Garland che facciamo il backcourt con Mitchell di Cleveland Malachi Bram Herbert Jones Miles Turner anche l'Indiana non lo so francamente cosa aspettarmi secondo me possono arrivare al secondo turno ma non lo so non li vedo più in là tirare tireremo Cameron Thomas dei Nets volevo vedere così per curiosità le statistiche 10.6 l'anno non l'anno scorso ma l'anno prima l'anno scorso secondo me statistiche aumentate di sicuro ne approfitto anche per mettere le card in fondo Kobe Brown Ratted Rookie anche qui no buono Joel Embiid un pezzo da 90 di quelli rotti non c'è mai io Embiid diciamo che non sono simpatizzante Embiid io prediligo quelli che ci sono sono presenti sono costanti ci sono sempre giocano cercano di giocare anche con gli infortuni e se gioca Lebron a 40 anni quasi tutte le partite gente che sempre rotta no Shoshan che non mi dispiace però mi rendo conto che non sia proprio un gran giocatore di Aaron Fox invece lo è abbiamo una carta girata andiamo di sistemarle oggi hanno un hobby altro a New York qui con la maglia di Toronto praticamente abbiamo fatto una squadra di New York senza vedere una maglia di Knicks quindi vabbè Buddy Hilde Buddy Hilde secondo me può far bene quest'anno Golden State non lo so ho questo presentimento ma potrei sbagliarmi clamorosamente e Golden State potrebbe fare schifo come l'anno scorso però chissà secondo me c'era rotto qualcosa c'era Thomas che non no infatti a Dallas quest'anno vediamo vediamo perché perché hanno fatto una scommessina che se ne possono anche pentire Paul George Paul George l'anno scorso aveva fatto il suo aveva giocato anche parecchie partite e se Philadelphia dopo averci speso un patrimonio secondo me nessun altro si poteva avvicinare un'offerta così si è rotto quindi partenza handicap subito Philadelphia Embiid non gioca i back to back sì perché le altre le gioca vero Paul George subito rotto per fortuna c'è Maxi allora D'Angelo Russell dei Lakers mamma mia mamma mia vabbè no no non siamo fortunati non siamo fortunati per niente non è un giocatore cattivo però non è uno di quelli che spereresti di trovare ecco e bella cos'è The Rookies Scoot Anderson beh beh questa mica male questa mica male tolgo la laser mettiamo Scoot Anderson qui beh Scoot Anderson per ora ha fatto poco primo anno però non lo so non finisce finché non è finita a tutto il tempo per riprendersi e fare meglio no cioè ci sono Rooki peggiori chiaro c'è anche come Bagnama ci sono Rooki migliori però il Barba che in chiave Fanta Basket quest'anno visto che c'è solo lui e Clippers l'ho preso al volo ma poi è tutto da vedere cosa succederà Immanuel Quigley quindi prima maia a New York primo giocatore che non gioca più a New York ma a Toronto Chris Paul in Maya Golden State si è visto giocare pochissimo in Maya Golden State quest'anno con Juan Bagnama San Antonio sarà una bella un bel vedere Kevin Durant abbiamo trovato anche la base dopo aver trovato l'inserto Devont e Graham non possono uscire tutti i forti Malcolm Brogdon che è rotto ma ah no è l'altro jazz Tyler Hendricks io quando ho visto colore jazz Red Dead Rooki ho detto ma anche Ionte George doppio eh no invece è l'altro rookie Hendricks che potrebbe giocare anche molto più del previsto quindi bene bene tifoso jazz posso solo che essere felice di questa carta facciamo così perché Anthony Edwards che potrebbe essere io ci punto molto onestamente senza più cut a prendersi in mano la squadra ha una grossa responsabilità Minnesota ma per me sarà uno dei prossimi giocatori bomba di quelli che possono vincere l'MVP potrei sbagliarmi perché l'ho preso la fantabasket quindi potrebbe andare in bacca tutto però io ci credo fortemente quindi proprio soltanto gli occhi ce lo imbagniamo e non stanno uscendo Jared Vanderbilt niente di che Tyrese Maxx ne avevamo parlato prima Reggie Bullock ma perché ste carri Bojan Bogdanovic ex Lidl ultime pescate male Hendrix giustamente l'avevamo visto prima allora guardiamo prima l'ultima che non è girata bella bella grafica Anthony Davis beh accettabile come nome carina come grafica e particolare bellina dai perché no ovviamente normale non numerata niente di che però un inserto carino bellino e vediamo la giro perché questo è il retro ecco Caso Wallace Rated Rookie di OKC questa va bene questa va bene non è numerata solo parallela green scusate del blasterino questa va bene e dico di più questa la imbusto subito non che sia chissà che però questa laser Rated Rookie Caso Wallace mica male finalmente la prima laser che sono contento di trovare ultimo pacchettozzo io aspetto sempre Yoki ci aspetto sempre Wembangyama che non arriverà mai perché quest'anno si è visto che sbustare non fa per me l'altra serie economica di panini che sono le ups ho preso il set completo arriverà il set base completo 300 card con i rookie lì carta di Wembangyama c'è per forza arriverà fra circa un mesetto per 60 euro per 60 euro il blasterino costava 40 ho messo 20 euro in più 60 euro spedito tutto il set come potevo lasciarlo lì quando arriverà possiamo guardarlo insieme se magari vale la pena bene allora vediamo un po' se c'è qualche colore niente andiamo avanti con i nomi bidone nell'attesa che ok Aldon Johnson stanno uscendo tanti di San Antonio magari esce anche buono Libertone però io voglio Wembangyama Mobley che però non è quello giusto Andrea Hunter niente Robert Williams terzo niente ho visto maglia nera speravo in qualcosa di meglio no 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 decisamente no poi arriviamo le due quindi metto avanti Mark Williams Kalev Martin Jamal Murray peccato serviva Jokic Zdenardi ormai sono rimaste poche card vediamo gli ultimi nomi Michael Porter Junior è uscita Denver ma in ritardo purtroppo Mark Fools niente questa l'avevamo già vista rimangono due card vediamo prima l'inserto Rookie Bilal Kulibaly ce ne sono di peggio ma ce ne sono anche di meglio diciamo medio-bassa e ultima card giriamo ultima laser eh qui dai servirebbe un nome buono per rifarsi un po' la bocca a finire in bellezza KCP eh KCP è andato Orlando non era il nome buono con cui finire ne sono usciti di peggiori però vabbè niente è andata male diciamo maluccio la chiusura andare a rivedere comunque il blasterino non posso dire di non essere soddisfatto perché ci sono praticamente tutti gli Utah Jazz con i rookie principali è uscito Cason Wallace che comunque come rookie non è male è uscito come rookie Scott Anderson che è partito male ma c'è ancora molto da vedere e carina questa di Anthony Davis molto meno carina questa di KD però via questo è quanto non so se vi sono piaciute come card le laser comunque sono particolari sono diverse comunque se un blasterino ne dà 6 non male non sono carte di valore quello è certo però per i soldi che costa onestamente non mi dispiace se per caso dovessi ordinare ancora ma potrei anche prenderne un altro quasi quasi però via alla fine così per divertirsi adesso siamo in hype per l'inizio della stagione ovviamente le cose non vanno mai come dovrebbero quindi succederà qualcosa magari qualche scambio qualcuno si rompe qualcuno non si rompe non so se Philadelphia avesse tutto a completo fa paura ma nei playoff si sa che Embiid non sta mai al 100% Paul George è comunque un rischio chissà ci sono squadre costruite molto bene anche molto solide difensivamente come OKC ma a Ovest è una bagarre c'è Dallas c'è Denver comunque c'è io ho un sentore per i Lakers l'anno scorso sono stati fermati da Denver ma se non beccavano Denver c'è caso che andavano un po' più avanti se stanno tutti bene non li vedo così male ma certamente non vinceranno non li vedo da vincere il titolo però sono tutti lì un mischione poi tante squadre come New Orleans e Kings che non si sa bene Minnesota Minnesota secondo me ha fatto un buon colpo ha fatto un buon cambio non lo so magari sbaglio però di Vincenzo potrebbe far bene come squadra a me fa un po' paura potrebbe far bene vediamo cosa succederà una volta tenevo per Denver adesso quest'anno non so sono contento per gli occhi se vince ma con la squadra che ha capisco che facciano fatica perché sono l'anno scorso erano in 5 quest'anno sono in 4 hanno preso Westbrook ma sono un po' corti secondo me se non cambiano qualcosa non succede qualcosa non anche se dar via Michael Porter Jr prendere qualcun altro magari uno per due prendere allungare un po' la rosa è difficile comunque vabbè questo è quanto ditemi voi cosa pensate chi pensate possa vincere così per curiosità provate a scriverlo sotto poi quest'altra andiamo a vedere i commenti sotto se qualcuno ci ha preso sembra facile dire Boston ma da dire al fare anche perché ultimamente non si ripete mai la squadra che vince per cui potrebbe essere la prima volta l'anno scorso hanno vinto in carrozza non hanno praticamente faticato vediamo cosa succederà quest'anno con tutti se beccano fila anche Milwaukee insomma tutte squadre injury prone quindi è facile a est arrivare in finale perché gli altri si fanno male tutti ecco diciamo così vi è piaciuta questa collezione perché io adesso ho divagato un po' parlando di NBA ma cosa ne pensate di questa collezione preferite le Dorras preferite le UPS parlando di set economici perché comunque sono carte plastificate realizzate bene sono abbastanza rigide non sono di quella carta che si sfoglia in mano quindi qualità minima accettabilissima come formato buono diciamo quello che si trova dentro un blasterino l'avete visto ci sono sei inserti sei laser e un rookie per ogni pacchetto quindi diciamo che ci sono tre carte interessanti per ogni pacchetto poi ci sono molte carte che non fa mai male per cui 90 carte un po' di nomi si trovano un po' di ciccia comunque si trova e non lo so vale i 30 euro sì 40 già ci spingiamo un po' un po' più avanti quindi non lo so siamo lì è ovvio che queste collezioni a basso prezzo conviene forse prendere sempre il set completo su ebay se uno ha intenzione di collezionare a completare o un blasterino ci sta se uno vuole tirare fuori non so la laser di Wembanyama che comunque sarebbe stata molto gradita ma come vedete è molto difficile anche perché ci sono le peggio nefandezze quindi ma lasciate comunque un commento che sono curioso di capire anche cosa ne pensate e io non sono molto avvezzo a sbustare NBA quindi un parere io colleziono tutti gli anni solo hoops il set completo giusto per avere un ricordo ditemi cosa ne pensate se potete lasciate un mi piace se vi va e non lo so quanti altri video tema NBA farò però se gradite che parli anche di NBA scrivetelo che farò anche più video anche molto volentieri devo dire la verità con questo è davvero tutto appuntamento al prossimo video e buon inizio di regular season a tutti guardate le partite e divertitevi alla prossima